Il VATUCLAB-Baronico dalla seconda alla quarta corsia Vicentino-Baroni-Montarco e questa prima batteria Vinante per la favorita tesore con Copricasco Rosso andrà a occupare invece la corsia 1-1 E allora, tesoro Vinante in reda VATUCLAB-Baronico dalla seconda alla quarta corsia Prima batteria della gara VATUCLAB-Baronico dalla mattina VATUCLAB-Baronico da la fine VATUCLAB-Baronico da la fine A Здесь anexati Che buon profumo!